Aspetta pure 10 secondi per fare un piccolo clacson E se riparte speriamo bene Edoardo eh Se non è crashato adesso non credo che... Ah vabbè andiamo sul sicuro via A prendere... Ah no no non ce va sul sicuro La chiave e beh allora prenda questo Mezzi lentissimi voi mamma Ma io non ci provo nemmeno a sparare Ma non ci provo nemmeno a sparare Ma come no? Ah no tutto sotto ho one shotto tutto Ah vabbè si però io non so perla Vabbè si fare casino Eh si sa male Vabbè però la mia macchina sta esplodendo quindi... Mazz... eh vedi? Vuole andare addosso invece di sparare Eeeh Vedi adesso mi carica un pochino Oh ho uno scag duro questo Ah perché? Quattro cento e trenta e trenta e trenta Ma andata a fuoco Ma perchè ci ha dato mille? Ci ha dato mille? Così? Chiamate i pompieri La chiamo io i pompieri Ahia Si sposteee Si sposteee Ma dov'è sta chiave? Eeeeeee Si sposte Si sposte Si sposte Si sposte Ma da quest'altro come da le incornate Mi da Oh cazzo Oh Bandito Bene Benissimo Eh si Ragazzi Ragazzi Quello forte Quello forte Quello forte Eccomi Ah vabbè Ah vabbè Ma questo però è il doppiatore eh? Fanno un po' cagare i doppiaggi qua vede Vabbè Vabbè Era un po' Allora uno era qua Ah vede Ha studiato Eee Dove cazzo sto andando io? Siamo lui a piedi Ahia No La mia dovrebbe essere Viva? Ancora la macchina Eh allora non è possibile Dobbiamo distruggere Ah vedi La macchina viva No 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 Un cazzo pro Ah no no invece È viva Viva Io andavo Andavo in fiamme io Ho preso la chiave eh Manca l'ultima ventola Riesce addirittura a migliorare Senti Ah vita C'è dell'energia Vita C'è anche se c'è dell'energia lì Ah vedo Eeeh Manca l'ultima Vento Non mi ricordo dov'è Eh Oh lo dice La mappa C'è un'altra volta la cazzo Giustamente Eh la mappa lo dici Ma qui sopra ecco Sono delle robe Eh lei fa le robe Eh questa roba ti piace? No ci sono delle No ci sono delle No ci sono sopra c'è una cazzo Fa cacca fa Eh oh Io mi dovevo fare fucile a pombo Perchè veramente Ma a me mi serveva un qualcosa per Ok tocca a completà O andammo a prendere La chiave Vabbè a completare Questa non ci vuole Tanto Aspetta Dovevo mettere il punto qua Portami davanti alla macchina dai Ok Portami davanti alla macchina dai Precisione Eeeh Eh vabbè dai Portami davanti alla macchina Così ti porto? Perchè Eh ma vado a sapere Eh vieni tu Eh vieni tu no? Eh vabbè io vado davanti e mi porti Andiamo Come funziona? Eh ma come funziona? Mettete davanti Andiamo Ah vedi Ah dai Questi sono i grandi bug Ciao Ma come si fa? E come si fa? Ma questa è l'alta tecnologia Come se salti su cazzini Vedi prendi la missione da qui Da dove stai andando? Ehi caga Non cago Non mi è andato in panico Allora ha completato Altra missione? Si un'altra missione Si un'altra missione No prima di andare Ma qua Mauton non c'è eh? Qua non sono andato Eh ci sta E' stato cazzo Che c'ha questo? Che dice? Niente Non è questo è vero no? No è questo Ma ha dato un'altra missione o sbaglio? No Non ha detto niente Si ha dato un'altra missione Ma a me non mi segna solo Si va a prendere la chiave E' raccolta Perché non l'ha accettata Ehm se lei No manda via allo stormo No manda via allo stormo Ma a me non c'è niente No ma con me mi sa Non affrontabile Ah hai visto Non l'ha affrontato Va bene Ehm eh dove 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 Ragazzi Poi dobbiamo scendere Maa C'è Ce ne sono due da fare C'è 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 Forza E perché non si può fare quello? Che cosa succede? Lei è nel menu Lei deve uscire dal menu Eh lo so Però dico perché non ce l'ha accettata Per le missioni Oh I grandi bug I grandi bug Oh Dio Oh Qua che ricordi Oh eh ricordi di bestemmia Porca puttana Qua esce qualcosa di duro Che ce lo infila proprio di duro proprio Eccolo qua Guarda che bello Pagga mamma mia Ma che inserono Che si scutano Oh si leccano Ah pure Eccolo Vati vati Ce la fa Ce la faccio Trovo Fatta Si Però forse a me ne ti buttano Le armi fanno schifo al cazzo Eh si Cioè sono finiti quando ho messo con il giro Prenda Prenda Edoardo La fiamma Una a lei e una a me Ah vedi? Tanti sto pazzo Allora La smettiamo? Eh si Buonanotte Ma ci sta impegnando proprio il doppiatore Ma ci sta impegnando proprio il doppiatore E' un problema Un problema si Tutte le bombe Facciamo delle armi E' un problema E' un problema E' un problema Allora Rennila perché sei Rapettante Cura Un cazzo Stico Una piala di energie Tutte le energie Tutte le energie Tutte le energie Oh ma porca puttana Quanti ce ne sono? Ah Se forse si va da pazzo qua Eh si Ah vedi? Eh infatti ho usato il livello 1 del launcher Ok Ecco amò Succedono i patatrall Eccolo Guardalo Lo prendo? Ah vabbè Lo prendo? Lo prendo? Lo preso? No Oh 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 cazzo Pistalo Pestalo Ladri Oh oh Servono munizioni No No Che piaciuto Qua Come si fa il giro questo? Non costringermi a tirarti su Una altra attacca sulla mia arma Morto? Sì Te lo sordi? Ma è il mardi Ah Mi sento già meglio C'è un palestrato qui Porca Che cazzo è? Madonna ma queste armi non fanno... Ah c'è un altro C'è un legume Ma infatti le muovo da merda Addirittura Chi è? E' lì sopra Non è morto eh E' il tizio prima Il tizio che non l'ho preso Fai le munizioni finiscono su Io sparo un caccone nel naso Ma che è questo? Ma che è questo? Ma che è questo? Colpo critico Probabilità di sparare due colpi Boh Un cazzo Questo mi finisce subito le munizioni Allora A qua a mo' succede un altro casino Dove sono? Eccolo Pure Pure qua esce un altro duro Eccolo Due Un altro? Io non me le ricordavo due sinceramente Tirate le bombe Eh non ce ne ho Eccolo Un altro video Non cazzo Voi dire che ci sono Non ci vuoi andare? Voi andare Si, e ho fatto tutto da sola No, io sicuramente ho qualcosa che non fa Aia, mi fa male Ho finito i caricatori Non è possibile che io se sparo in testa non prenda il colpo, eh? No Ho finito le munizioni Ho finito le munizioni No, ho preso qualcosa che non dovevo prendere Bomba in buca Che cosa Mazzata, mazzata, mazzata Prego, fai veloce No, 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 no Che cosa succede? I cosi volanti Nice shot Ma che cazzo Si attivata la shot C'è, madonna Oh, bravo, bravo E spari Napar Eh, ucceviz Eh, ucceviz Eh, ucceviz Oh, bravo Sozzer Ode, ucceviz Chi è che ti? Faralo, sparalo Cioè, questo è un muro, vengono di me Ma che cazzo di arma di merda c'ho Tieni in punteggi Ma qualcuno ragazzi che si prenda questo fucile perché che fucile? fucile a pompa? fucile elementale no questo è tuo lui dice il fucile ah ecco il fucile a pompa ci sono altre cose qui ti rendi conto che erano quasi tutti in dubbio? è quello che a me mi spaventa è dura eh è durissima è durissima si cosa ha trovato qui? mi sento già meglio ci sono altre armine un che posso per le granate questo cichino è più forte che il mio? no ho preso un'arma di merda io butto i miei scudi vedete se qualcuno è migliore se è peggiore cos'è sta roba? ma vedi? prenditi se ti serve qualcosa ah il mercato lo sciolto canno lo butto perché fa cagare questo sta pistola di merda questo madonna lo odio io ho un mitra no io posso sì fa danni dovrebbe fare danni e non fai danni più che altro salto wow no questa merda serve per comprare munizioni eh allora dobbiamo tornare indietro ah ti ricordi qui in questa zona che ci sta ah è qualcosa di bello i due mongoloi no 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 non mi sta bene sta cosa Io sparo e non colpisci il bersaglio Qualcosa che non va Ma cos'è? Ricordati che pure è un gioco abbastanza vecchiotto Ho capito, Raman Non è possibile che io si spara in testa Ma pure a me a volte me lo fa E mi dà dopo il danno, eh Mamma mia, che è sto schifo? Che cazzo è successo? E vediamo se così funziona, ma... Questi sono gli acca, vedi? Ho messo gli acca Oh, madonna, porca Non mi serve più il medico Merda, ci stanno i piromani, mo' Mi ricordo qua Qua sta? Una brutta cosa qua Un piccolo aneddoto che è successo qua Ah sì, vero E... La casina bastarda La casina bastarda che ti fa pagare il mondo Ah, vedi Questa è una brutta Come sta senza pulizioni? Nooo, ma è... Nooo, non c'è 3, perchè qua lui è una, questo si può uscire a pompa qualche volta Oh, bombe vedete subito? Abbiamo un momento di tranquillità Ormai dobbiamo aprire tutte le casse possibili qua, le munizioni vanno proprio che... I soldi, i soldi! Guida pure che la prenda Qua c'è qualcosa, qua non c'è niente, qua non c'è niente Qua c'è una cassettina Che cazzo? Ah no Qui c'era un gabinetto sui miei sbagliati, infatti Ah, mi sento già meglio Granate su Sirius Ma perchè cazzo l'ho presa io a te? Eh, perchè... credeva Mangia tutto il signor Edward Eh, mangia tutto un cazzo, vamo sopra Ma aspira forte Eh, dai, ti prego, qualcosa di bello Eh, tutto a voi, va Tutto a merda a voi, va Tutto... ah, tira 8, 24, 2 proiettili disparate Questo è buono, credo Più due proiettili Sì, ma questo deve mangiare le munizioni Eh, meno male che... più si è E il bottino meglio è Eh, ma... sbordare l'enzuno è fatto male, però Oh, magari voglio le munizioni del cecchino Le prenda, le prenda Guarda, devo pigliare qua Le granate le prendo io Oddio, qua chi c'era? Sledge, Sledge che era? Quella lua con le corna Ah, quella lua con le fucile a bomba E sparava i razzi Con le corna? Ma ci sono le munizie Ma non posso permettermelo, ovviamente Un attimo, avendo un po' di schifezze Sì, sì C'è anche la... ...energia, se la volete prendere Oh no No Questa è il mio Che? Come ci hanno fatto a vedere? Ma por... Eh, già malenavano allo scuro, il bello Ma ma che ca... ma... Vabbè Come ci ha ammazzato, non lo so Ma è una ferita superficiale Di scegliere Guarda me Ah oh Un'armetta qua, un fucile Ah... il mitra E questo è per lei E c'è un po' di balle Ah no, questo è fucile Questo è fucile Io vedo mitra Eh beh, è per lui Questo è un fucile Fucile d'assalto Fucile d'assalto Fucile d'assalto Ah diciamo ben i nomi Fucile E questo si alleva un bel po' di termine Oh no! Ok Oh no! Cosa no no? Lo senti sto rumore? Io non sento niente Ah si, claptrap Da qua dentro Porca Dentro, dentro Ok Ok Aiuti gris Eeeh Perumai cap on me Ok 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 Vio Casino, porca vuota Eh, ma questo è un bel problemino Se non abbiamo le armi giuste qua succede un casino Cosa Non ti è piaciuto? Vieni fuori, vieni fuori, ovunque tu sei E' una buona E' una buona E' una buona E' una scuola In piedi soldato Ma qui dei banditi femmina non esistono Banditi femmina? Eh Ah no Eh 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 Neanche al 2 Mi sembro Maaaa No Vedo Ho fatto malissimo A parte il fatto che pure noi non facciamo un cazzo di danno E' così Porca puttana Vabbè salvi alle otto ortici Avanti, cammina Qualcuno serve energia? Allora No Uccidete, uccidete i gonghi E tu che diavolo saresti? Dove era la... Ah eccola Cosa? Il cap drop sta sotto, eh? Sta qua sotto Porca Ma che? Ma che? Eeeh Ducidero Si arriva Ma vedi Mi sento già meglio Eeeh Allora Ma Tanto per fare una cosa veloce Oh Oh merda Oh merda Oh merda Vabbè, facciamole salire qualcuno Ho il duro, ho il duro Mi mancava solo il duro Nern, sta venendo Sopra, sopra, sopra Eta Sopra, sopra Miglioro ogni minuto che passa Cioè, vai, i critici non mi fai droga Eh, ma... Quello è il problema I critici non vanno Forse perchè non è insieme alla inserzione È un modo così Un altro che mangia la polvere Probabile che è colpa del vostro In piedi, già Ma... Sembra un po' una strozzata, sta cosa Rilascerai prima che ti cuciniamo Prendilo Bravo Blot Munizioni a zero È proprio un gioco che secondo me è un po' abbastanza peggiotto, vedi? Allora, fermi tutti Uno Così 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 Cosa